La giornata di oggi è stata una giornata non di lezione, di studio ma soprattutto di incontro, di incontro per capire un concetto che forse non è molto chiaro o non è molto familiare, quello del rapporto di collaborazione tra le varie amministrazioni e la procura contabile è un'amministrazione al servizio dei cittadini, esattamente come il comune, la regione o altri enti, soltanto che fornisce un servizio diverso, quindi il cittadino con la segnalazione che fa la Corte dei Conti alla procura contabile di qualcosa che non va secondo la propria visione non fa un danno al comune ma apporta un vantaggio al comune perché gli consente di fornire i servizi in modo più corretto, adeguato e commisurato alle istanze della popolazione. Una giornata, sì, una giornata secondo me importante, ringrazio la dottoressa Apregioli che ci ha ovviamente omaggiato della sua presenza e ha permesso veramente il risultato di una giornata di legalità, di grande attività di informazione circa appunto tematiche che possono talvolta essere ritenute oscure ma in realtà in modo assolutamente erroneo, tra l'altro un'iniziativa che ha trovato grande riscontro a parte dell'amministrazione non solo comunale ma anche regionale e che ci sospinge in questa attività di avvicinamento della pubblica amministrazione all'organo di controllo e di legalità e che ovviamente possa essere anche di un buon auspicio per un'attività di veramente informazione che nel tempo possa svolgersi a beneficio di tutta la collettività. Grazie